Un nuovo video di Airstone, oggi andremo a giocare un po' con il guerriero, credo Facciamo una partita col Cancro Ragazzi, è un mazzo del cacciatore che si chiama Cancro Vuoi dire cosa? Cancro? What? Sì ragazzi, l'ho chiamato Cancro perché è veramente un Cancro di questo gioco Una cosa che dovrebbe essere rimosta perché non ci dovrebbe essere in questo gioco Una cosa un po' citosa, effettivamente È un mazzo stupido Cioè tu butti tutto quello che ti esce a caso E vinci E quella è la tristezza Ok, becchino Ovviamente un minimo di tattica ce deve essere, è ovvio, però Alla fine butti tutto e via Gips me lo terrei, eh Ma sai che mi tengo tutti? Iniziando per primo mi trovo un po' in difficoltà Avrei potuto togliere il becchino, quello sì Ma me lo tengo, magari esce qualcosa di simpatico, vediamo Non lo so, non ne ho idea Ah Speravo qualcosa di meglio Ah Però il fatto che ho il becchino Farà sprecare un'abilità a lui per uccidere il becchino Penso se è un Endlock, non so che tipo di mazzo sia adesso Vediamo un attimo In teoria la sequenza è facile ragazzi 1 mana, 2 mana, 3 mana e 4 mana Non si scappa, eh Tutto in ordine Ecco, sta per usare qualcosa contro chi? 2 mana Ok, questa non l'ho capita Speriamo di pescare il mech, quello lì, 2-1 1 di mana Dai ti prego, dammelo, 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 ti prego, dammelo, 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 ti prego, dammelo Warlock Poi questo è aggro Con le melme Quindi è quello che gioca con i giganti o con l'implosion Quindi appena arriva a 4 di mana mi dirà un implosion Forse c'è un sergente violento? Potrebbe uccidere il becchino con il sergente violento se ce l'ha Vediamo un attimo Non lo vedo molto Molto combattivo, lo vedo un po' FK Dai, però, potresti anche fare qualcosa Ma questa è la grande tattica che ti è venuta a mente? Il lupo? Ok, eh sì, un altro Vabbè Niente, devo giocare al mech war per no No Sì, per forza No Perché al prossimo gioco lui Però mi rimane sto lupo del cap E chi se ne frega? Allora, tutto faccio Eh, io sono un cancro Io devo fare il cancro Non devo pulire il terreno Devo fare il cancro col nemico 4 danni? Sono 4 danni Dai parliamo Adesso al quarto turno gioco lui Alla fine è una bella carta Ecco, il fatto che ha giocato il becchino non mi piace Ma manco per niente Quello ne ho metto Ma può essere anche ignorato Adesso mi attaccherà, penso così Penso sia la giocata più ovvia Non credo vada diretto Non lo so, ma vediamo Potresti anche giocare Non per dire niente Ma Non sarebbe una cattiva idea giocare E far giocare anche me Ma è così difficile la giocata che devi fare È davvero così complesso il meccanismo Oh, che giocata Adesso sì, eh Eh, adesso sì, eh Adesso sì, eh Adesso proprio, guarda Adesso hai vinto The boss Ok ragazzi Questa è stata simpatica Ho sbagliato Vedete perché io non devo giocare quando ho registro Ho sbagliato Dove attaccare con questo il becchino E tira la freccia Basta Fini il turno Ho sbagliato È di brutto anche Non un pochino È di brutto sbagliato Vedete perché a me non piace giocare mentre ho registro Cioè Sti errori proprio banali e facili Che potrei evitare Che così ne faccio Vabbè Comunque ci avete fatto caso a che maglietta c'ho La ricordate? È quello che usavo durante un video di niente Che stai facendo Attacca col becchino Attacca il 2-2 col becchino Col becchino Non con quello Con il becchino Bravo No Ti esce un altro segreto se attacchi quello Ti conviene? No Vabbè Vedete? Ho sbagliato tutto Ho perso la partita a questa cosa Mi sembra possibile perdere questo motivo E' quanto idiota come cosa Ho perso Non posso fare niente Che fail Veramente ragazzi Mi vergogno di me stesso Dove attaccare il becchino Il becchino adesso era morto E c'ho ancora il segreto esplosivo in mano Che poi devo giocare Che fail apocalittico Giochiamo Giochiamo Devo giocare a mostri Devo giocare a mostri Mi attaccherà col 4-4 questo Col becchino questo Dai su una cosa veloce Però posso stare qua tutto il giorno Madonna che Ho perso questo sbaglio Ho vinto Ho perso questo sbaglio Incredibile Non riesco a stare concentrato Perché sto a pensare altro Sto a pensare Alla web Sto a pensare al video Sto a pensare Tutto Un casino E questo pesca Cioè 15 di video Non stai messo bene amico Cioè pescare non credo sia la soluzione migliore Vediamo che esce Uuuu Milaus Maralampo Uuuu Well played Ciao Milaus Un 2 di mana 4-4 Simpatico Eh Questa aiuterà guarda Questa aiuterà decisamente Va tutto diretto Ovviamente lui ora penserà a proteggersi Quindi non credo attaccherà diretto Attaccherà Uno dei mostri Ma alla fine non l'aiuterà Dovrei aver vinto Meno male che mi è uscito Milaus Milaus mi ha cambiato le sorti della partita E lui doveva uccidere Milaus Ha sbagliato attaccare Ma è corpo Ha sbagliato anche lui Ha fatto anche lui una mossa sbagliata Capfish Quanta potenza C'è uno di mana Che devi fare? Decisioni rapide Uh Un Warlock simpaticissimo Ciao Warlock Ok attacca a me Perfetto Regnetto Ordine di morto Freccia Ciao Kick È stato un piacere 2 HP Well played Ecco il mazzo cancro Ragazzi Bello vero Non devi fare nulla Devi buttare carte E fare tutto diretto Sì Che bello Nonostante ho fatto una big cazzata Che avrei dovuto perdere la partita Ho vinto lo stesso C'è molto senso Che bello Aha E ora che è cambiato Vuoi vincere Ho il potere eroe Non l'hai mai visto Il potere eroe Che fa due danni Mi sa che non l'ha mai visto Il potere eroe Che fa due danni Ah Eh beh Eh sì eh Eh sì eh E il cancro È il cancro È il cancro Me ne faccio un'altra Grazie per avermi fatto perdere Tutto questo tempo Pensando le tue fantastiche giocate Hai perso Nonostante io ho sbagliato a giocare Non so come hai fatto No che sape E io me ne faccio un'altra Ma la faccio Dice che i video Durano 10 minuti Me ne faccio un'altra Col cancro Intanto a quanto pare Durano poco Avversario onorevole Giusto avversario Sempre lui L'ultimo avversario Si chiamava Carpfish No questo è Frenzy 11 Axi Sì Qui vedete il mio battle tag Aggiungetevi come vi pare Tanto questa è la gente Che mi aggiunge Non so che cacchio Non c'ho spazio Ci dovrei avere tre spazi Ok Lì sta amici piena Non mi aggiungete Perché tanto non vi posso aggiungere E le carte che ho pescato Non so affatto male Oh Belle carte Conferma Oh l'annoio trono Allora gioco subito il turno 1 No non posso adesso Gioco subito il turno 1 Lui No muore E che me frega No si me frega Aspetta metto l'annoio trono No metto lui Ancora meglio Guarda chi c'è Aspetta Aspetta Turno 2 Turno 2 giocherò Si Vai Turno 2 gioco il McWhorper Turno 3 gioco lui E al turno 4 gioco tutti e due insieme Bam E poi il bordello Ok fermi tutti Sì tranquillo Attacca diretto Why did you call? Perché mi hai chiamato? Ok E adesso va bene così Perché sapete ragazzi Che devo far morire lui E poi trappole esplosive Boom Esplode tutto Ovvio Gioca gioca Prego Mo' giocherà Lovetto Se ce l'ha Tutto diretto? Ma questo è un super agro lock È cattivo sto tipo Mamma mia L'unico modo che ha per vincere Mette un Argus Raga Se c'ha un Argus Ha vinto Speriamo di no Se ha difensore di Argus Ha vinto Ok questi sono andati a casa Fino qua tutto bene Numeramento Ok Becchino Va benissimo Non hai più niente serio? Va bene Tocca a me Vedete questo Vai Adesso tegano gli altri 3-2 ragazzi 5 di mana Capito? L'ordine delle carte La logica è importante Nonostante sia un masso cancro Che tu butti roba a cazzo È sempre utile Avere una propria strategia Comunque Un sistema di attacco Se avete fatto caso È tutto calcolato Al minimo dettaglio Adesso gioco lui E poi gioco lui E è finita la partita Guardate Vi faccio vedere Molto semplicemente Guardate Gioco lui Gioco questo Guardate che succede Uff Morto Il mio avversario Sta a 10 di vita Ho una provocazione 3-2 davanti Che per passarla Dovrà suicidare qualcuno E non mi potrà mai Uccidere l'eroe Al massimo Ma nessun massimo Perché c'ho lui che esplode E fa 2 danni Questa che fa 5 danni Un animale L'eroe tutto È morto Non può fare nulla ragazzi E' bella è finita Well played Più tutti si danno in terra Che se non li rimuove È finita la partita E ecco qui il mazzo cancro Comunque Il video sta per concludersi Perché sto per vincere anche questa partita Ragazzi Se Volete sapere il mazzo Ve lo metto qui Ve lo metto sulla destra Qua Lo metto Qui Qua Di là Di là lo metto Dall'altro lato Sì Potrei metterlo Potrei metterlo qui sotto No non va bene qui sotto Lo metto di là Di là Lì Lì Sì 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 Andate di là Lo metto lì E vi guardate tutto il bel mazzo Come è fatto Se è reso Good play Per questo video è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.